Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un artista del territorio, ma in realtà un artista internazionale, perché la musica è internazionale. E allora abbiamo ospite Matteo, che a questo punto ha la domanda più semplice e più banale. Se devi descrivere oggi a chi ti ascolta, che non conosce, chi è Matteo? Allora, ciao a tutti. Matteo è un bassista e contrabassista ascolano, diciamo, sono esattamente di Uffida, ma mi definisco ovviamente ascolano. E dopo diversi anni, il quale sono ancora membro della band La Rua, ho avuto la fortuna di suonare con grandi musicisti, come Pallo Di Sabatino, Fabio Goncato, quindi ho avuto la fortuna di stare accanto a grandissimi musicisti. Per la prima volta sono uscito con un mio lavoro, diciamo, discografico, con un mio disco, un mio progetto, dove vado, porto, diciamo, con me la mia musica e dei miei brani, tutto basato sul mio strumento, che è il basso elettrico, quindi qui si crea un po' qualcosa di strano, di non consueto, quello di avere il basso come strumento leader. E appunto, a questo punto, partiamo subito con il primo disco. Prima cosa, come nasce questo disco, dove tra ispirazione, ma soprattutto, perché questo titolo, Labirinto? Allora, sì, il titolo, diciamo, ha un suo preciso, ha un suo perché. Il Labirinto è un percorso dal quale è molto difficile uscirne. E questo disco è stato un po' questo per me, cioè un disco che ho iniziato a scrivere, a pensare, diversi anni fa, nel 2015 circa, ma, diciamo, ho impiegato parecchio tempo per chiudere questo percorso e per uscirne fuori. E questo è sicuramente dato dal fatto che il basso, dal punto di vista compositivo, non è il pianoforte, insomma, non è lo strumento per eccellenza per comporre. Quindi questo mi ha fatto impiegare più tempo del previsto. Ma alla fine ne sono, appunto, sono riuscito a uscire da questo labirinto e è nato questo disco, del quale vado molto, molto fiero. E ci tengo a sottolineare che ho suonato, hanno partecipato tutti ottimi musicisti della mia età, quindi abbastanza giovani, tutti del territorio, dei musicisti con cui, che sono dei, prima di essere dei musicisti con cui ho collaborato, dei grandissimi amici, che sono dei grandissimi talenti e l'hanno dimostrato in questo lavoro. Allora, intanto, facci vedere la copertina. Assolutamente sì. Allora, questo è il mio disco, dove c'è appunto il basso e una sorta di intreccio che può assomigliare un po' ad un particolare, un po' più immaginario labirinto. Questo è il fronte e il retro e dentro ho messo un'immagine di mentre lo stavo registrando e il disco che tiene la stessa grafica. Questo è il disco. Oltre a questo ho voluto fare anche un bigliettino per quanto riguarda il digitale, con un QR code. Questo è sempre un disco per me, ma è soltanto per il digitale, dove ci sono tutte le piattaforme dove poterlo ascoltare. E parlaci un pochettino di questi brani, perché ogni brano ha una piccola storia a sé. Come hai tratto ispirazione per questi singoli brani? Perché ognuno, abbiamo detto, ha una storia a sé, ha una vita a sé, ha una vita propria. Certo. Certo, chiaramente questi brani, come ti accennavo, iniziati a scrivere nel 2005, portati dietro per anni, appunto fino al 2022, sicuramente hanno avuto una grande evoluzione all'interno del periodo del Covid, dove mi sono trovato dopo un lungo periodo, dove addirittura con la rua eravamo rientrati da poco dal giro del mondo. Stavo facendo delle date con Fabio Concato e con Paolo Di Sabatino, mi sono trovato dal nulla, chiuso in casa, senza poter fare nulla, e l'unica cosa che potevo fare era riprendere quelle bozze che avevo iniziato qualche anno prima e andare avanti per portare a termine, insomma, questo percorso. Quindi è nato un po' tutto da lì. Il Covid, in questo senso, mi ha spinto a chiudere dei brani, scriverne altri e uscire con qualcosa di mio, che iniziavo a sentire questa esigenza. Considera che studio e faccio musica da quando sono un bambino. Nella mia famiglia c'erano musicisti e da quando ho otto anni che studio, quindi sono all'interno della musica ormai, tra virgolette, un veterano, nel senso nei miei trent'anni sono ventidue anni che faccio musica. Quindi c'era questa esigenza. Chiaramente ci sono molte influenze di bassisti internazionali all'interno. Ho citato ad esempio Nathan East, che è uno dei più grandi, diciamo, turnisti della storia e della musica moderna. Bassista di Eric Clapton, che ha collaborato con Michael Jackson, Phil Collins, insomma, i più svariati. Lui è sicuramente una delle mie più grandi influenze, uno dei bassisti che ho ascoltato di più, ma potrei insomma citarne diversi altri. E questi, quel periodo mi hanno portato, insomma, a fare questi brani. Poi certo, ogni brano ha una sua storia, è legato a un pensiero che mi ricorda, a qualcosa che ho vissuto, ma diciamo tendenzialmente questa è un po' l'idea. Mi sono richiuso nella mia stanza, nella mia sala, nel mio studio che ho sotto casa, da solo, con la Loop Station, che è un oggetto che ti permette di registrarti, e col basso, per quello che ho registrato proprio a due mani col basso, ho scritto, insomma, tutti questi brani che poi ho portato in quartetto, perché nel disco suoniamo, la formazione è basso, chitarra elettrica, batteria e piano e tastiere. Quindi siamo in quartetto. E ricordando che anche un altro bassista di Ascoli ha fatto un prodotto, un altro disco, ricordiamo che è Saturnino, che ha fatto questa di basso. Assolutamente, sì. E la domanda più spontanea veniva a questo punto, qual è mai scelto il basso come strumento per suonare? E tanti altri a chitarra, che poi in realtà il chitarrista è quello che cacca di più, colui, il cantante cacca di più, il bassista è poco considerato. Sì, il bassista è sempre il personaggio un po' più anonimo della band, no? Guarda, questa è una bella domanda. Io avendolo scelto ad otto anni, non ho proprio una risposta specifica, nel senso che mio padre suonava la batteria, mio fratello suonava la batteria. Io in casa mia sentivo musica sempre. Vedevo mio fratello fare le prove con i gruppi che frequentava, anche mio padre, e un giorno dissi a mio padre semplicemente voglio suonare il basso. Probabilmente non avevo neanche bene idea di quale fosse tra gli strumenti che vedevo, però mio padre mi accompagnò in negozio a prendere un basso e da lì è stato tutto un amore che mi sono portato dietro, non ho mai abbandonato e l'ho in realtà arricchito iniziando a 18 anni anche proprio lo studio del contrabbasso. Però ero talmente piccolo che non so esattamente perché sia successo. Ma tu hai citato appunto il basso, ma anche il contrabbasso, perché in realtà in molti concerti hai suonato il contrabbasso, perché chiaramente la musica, in quel momento l'artista e la musica che suonavi, ti portava a portare a utilizzare il contrabbasso. Che differenza passa in questo caso l'utilizzo del basso elettrico e del contrabbasso classico? Allora sì, esatto, come hai detto tu, in base a cosa dovevo suonare, a volte ho scelto il contrabbasso e altre volte il basso elettrico per proprio una serie di fattori, di sound che dovevo portare a casa. Chiaramente sono due strumenti che hanno un timbro e un range sonoro simile, ma sono molto molto diversi da suonare. Uno è uno degli strumenti classici per eccellenza, che fa parte appunto della famiglia degli archi, l'altro è uno degli strumenti più moderni che ci siano, perché il basso elettrico ha una storia davvero recente. In realtà, appunto, dal punto di vista concertistico, in base a cosa suono, scelgo uno dei due strumenti. Se devo fare una cosa più, principalmente il jazz, perché io il contrabbasso ho fatto più dei studi jazzistici, perché è uno degli strumenti principali del jazz, più che classici, cioè non sono un concertista classico, sono un musicista, cioè provo ad essere un musicista di jazz, ho studiato quello in conservatorio per quanto riguarda il contrabbasso, mentre col basso elettrico suono, diciamo, suonorità molto più, molto più moderne. Poi nel mio disco la particolarità è che utilizzo un basso a sei corde, credo anche Saturnino nel suo disco, testa di basso, utilizzava un sei corde, perché quando devi fare, diciamo, delle cose molto melodiche col basso, il basso a sei corde in questo caso ti viene molto in aiuto. Si può avvicinare un po' più a una chitarra, in effetti, il basso a sei corde. Ma poi in realtà il basso è quello che spesso vuol dire dal riff alla canzone, e poi, che poi a volte il riff dà quel successo allo stesso brano, che è successo frequentemente, soprattutto nella dance. Sì, esatto, ci sono tantissimi brani che nascono da un groove, tipo Billie Jean, per citarne uno, di Michael Jackson, o tantissimi brani di Steve Wonder, o, che ne so, disco inferno della dance, tutti basati dal basso elettro, da un riff di basso che ha costruito il brano, quindi è assolutamente uno strumento essenziale, questo, indubbiamente, e anche molto creativo, in effetti. E suonare al vivo con tanti personaggi, ma soprattutto girare il mondo, che emozioni ti ha dato, quando ti si è aperto la quarta platea, e davanti hai avuto tante gente, tante persone, tante culture, però inizialmente silenziosi, ma poi quel silenzio che parla, poi a volte non lo vedete anche, perché c'è il buio, c'è le luci di Conte, però sentite quell'energia, quelle urle, quell'energia, che loro mandano sotto il palco a voi, e voi come riuscite a ritrasmettere, come sentite quell'emozione? Come la vivete? Guarda, mi sento molto fortunato, nel senso, nella mia, tra virgolette, giovanità, ad aver fatto delle bellissime e grandi esperienze. Più di tutti, forse la cosa che più mi ha dato, mi ha lasciato, mi ha trasmesso, è stato sicuramente il giro del mondo, perché avere la possibilità di suonare in Australia, in Giappone, in Canada, in posti davvero lontani da noi, è stata un'esperienza incredibile. E quello che il pubblico ti dà, in realtà, quando stai su un palco, si trasforma chiaramente in adrenalina, e quindi ti senti molto più sicuro di te, energico, ti dà, sono delle sensazioni davvero positive, cioè tutta adrenalina che poi, che ti permette, insomma, di rendere al meglio, di fare lo show al meglio possibile. E quando c'è di attacco, poi la gente che ti si avvicina, se ci avete la possibilità di far avvicinare, quali sono le vostre reazioni quando vi si avvicinano e vi fanno domande, a volte particolari, ma ci sono domande che vi hanno lasciato sorpresi, perché in realtà non ve le aspettavate, oppure avete dato una risposta che in realtà, la domanda non era ben chiara, ma il sorriso, l'emozione che avete dato dall'altra parte, ovviamente vi siete accorti che in realtà la risposta è stata molto, ma soprattutto accolta, ma emozionante per caso. Guarda, a me è una cosa che emoziona molto dal palco, allora spesso, come dici tu, dal palco spesso sei accecato dalle luci e non vedi nulla, è come se stessi solo. Dall'altra parte, quando per qualche frazione di secondo si aprono le luci sul pubblico, e mi riferisco a tantissimi concerti che ho fatto con la RUA, in cui avevamo un pubblico bellissimo, anche ad altri fatti con Fabio Concato, quando vedi che tu stai suonando e vedi dei sorrisi, riesci a capire che delle persone si stanno emozionando, quella penso che sia la cosa che mi trasmette più energia positiva a me. E poi è chiaro che quando scendi dal palco, che vengono le persone, vengono magari a ringraziarti, già è una cosa pazzesca, perché ti senti veramente grato per quello che hai fatto, insomma, fa assolutamente piacere. già avere un semplice grazie è una cosa davvero, anche perché è una parola che in certe circostanze, quando magari una persona neanche la conosce, non è una parola scontata. Una persona che venga lì a ringraziarti, a abbracciarti, sono tutte cose davvero belle, assolutamente. Che cosa ti racconti nel momento del periodo di Fabio Concato, nel momento in cui hai suonato con Fabio? C'è qualche momento particolare che ti ricordi, che ti ha emozionato? Sì, allora di Fabio c'è sicuramente un aneddoto che racconto sempre, che è stato il momento in cui l'ho conosciuto, che mi ha lasciato abbastanza senza parole il primo incontro con lui, perché lo ascoltavo a casa da quando ero piccolissimo, da quando ho iniziato a studiare musica, studiavo i suoi pezzi, mi piacevano tantissimo, lo seguivo parecchio. E l'ho conosciuto il giorno di un concerto, non è che l'ho conosciuto prima, l'ho preso insieme all'altra band alla stazione, poi andavamo con un van e facevamo il concerto il giorno stesso. E se non erro l'ho conosciuto, non ricordo se è alla stazione di Milano, comunque ricordo di aver fatto un bel viaggio prima, sapendo che l'avrei incontrato proprio quel giorno. Allora, durante quel viaggio pensavo, adesso cosa dirò, appena lo incontro, come mi presento, come cosa... sono stato 3-4 ore di viaggio a pensare a una frase da dirgli, per ringraziarlo, che mi faceva, per me era un grande onore suonare con lui. E ricordo perfettamente che appena l'ho visto, senza che io avessi, insomma, il tempo di parlare, ha iniziato lui, mi ha guardato e mi ha detto Matteo, grazie di essere venuto. Cioè, è stato lui a ringraziare me. E sta cosa mi ha... me la ricordo, perché mi ha dimostrato un'umiltà pazzesca, è un grande musicista, è un grandissimo cantante, è un grandissimo autore e poi averlo frequentato ho capito che è davvero una persona pazzesca, sia dal punto di vista dell'umiltà, di tutto, mi ha insegnato davvero tanto, veramente tanto. Ci sono aneddoti particolari nella realizzazione del disco, oltre, chiaramente, hai dovuto lavorare spesso e volentieri da solo, però che in realtà non ti aspettavi che... qualche consiglio anche di due colleghi che ti hanno collaborato nel disco, che hanno fatto modificare un pochettino il brano, che poi alla fine ti sei accorto che rendeva molto meglio rispetto a come l'avevi pensato inizialmente? Allora, guarda, devo ammettere che su alcuni brani quando ho iniziato a scriverli avevo delle idee per quanto riguarda quel pezzo e devo ammettere che lo suonavo in basso solo, quindi è abbastanza difficile capire come sarebbe poi venuto. Per alcuni pezzi in realtà sono proprio diventati come li immaginavo, già questa cosa è pazzesca, mentre per altri devo ammettere che i pezzi si sono piano piano trasformati e sono arrivato a fine pezzo che era l'opposto di quello che immaginavo, ma in entrambi i casi sono davvero soddisfatto perché penso che i ragazzi con cui ho collaborato hanno fatto davvero un grande lavoro, sono stati bravissimi in studio e sembra un disco, a volte quanto lo sento sento un chitarrista pazzesco, un tastierista pazzesco, un batterista pazzesco e mi fa piacere pensare che sono degli amici con i quali ho condiviso il conservatorio e tantissime altre avventure che si sono comportati davvero come dei grandi musicisti. Questo disco abbiamo detto che è digitale e in formato CD, Vinile non ci hai mai pensato, no? Allora, per il momento ho fatto solo digitale e formato CD. Digitale l'ho distribuito in tutte le piattaforme, ci tengo a sottolineare che mi ha supportato nella realizzazione di tutto ciò, la Pro Art Factory, che è la prima società cooperativa artistica della zona. Senza di lei sicuramente non sarei riuscito a fare un certo tipo di distribuzione, avere tutti quei canali, mi ha dato anche una mano per una sorta di ufficio stampa, per avere insomma degli articoli sul giornale, di interviste, insomma, devo tanto alla Pro Art che mi ha aiutato e supportato in tutto dal primo momento. Il Vinile è chiaramente una cosa molto interessante, allettante, di nicchia, che piace moltissimo, sempre di più che sta uscendo. È una cosa che chiaramente ancora non ho fatto, ma ovviamente non escludo, nel senso so che ha dei tempi un po' lunghetti in questo periodo di realizzazione, però è una cosa che se vedo che il mio obiettivo chiaramente ad oggi è quello di portare in giro la mia musica, quindi vorrei portare live questo disco, e suonarlo il più possibile. Se poi ci fosse richiesta, chiaramente sarei assolutamente interessato nel fare il Vinile. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è il fatto che ho avuto, diciamo, c'è una grande ambizione in questo disco, ovvero quella di fare, di rendere fruibile a tutti la musica strumentale. Cioè, è un disco strumentale, ma ho cercato di fare di tutto affinché possa essere ascoltato da tutti. E dico questa cosa perché spesso la musica strumentale è una roba riservata molto ai musicisti stessi, agli addetti ai lavori, diciamo, non è spesso fruibile a chiunque, insomma, anche a chi di musica non si occupa e non è magari tra virgolette interessato. Invece ho cercato di rendere, di fare un lavoro molto melodico che possa essere ascoltato da tutti. e devo ammettere che sto ricevendo degli ottimi feedback, nel senso, sai, mi hanno contattato diverse persone che non c'entrano nulla con la musica, che hanno voluto acquistare il disco, che mi hanno detto mi è piaciuto tantissimo, riesco benissimo ad ascoltarlo, cosa che secondo me per un discorso di progetto strumentale non è affatto una cosa scontata, insomma. A questo punto allora ti dovremmo aspettare per vederti dal vivo così potremo goderci perché in realtà a volte le parole che danno senso ritmico alla musica in realtà la musica ha una sua vita propria e le parole poi sono un annesso che possono dare un qualcosa in più o a volte togliere. Ci sono tanti artisti come Gio Satriani e tanti artisti che provocano musica senza utilizzare anche Dardass Dario Parini quindi collaborazioni future con arti artistici ce ne saranno? Guarda, sicuramente è una cosa che mi auguro che spero al momento come ti dicevo l'idea e quello su cui sto lavorando è quello sul essendo il disco appena uscito vorrei un po' mi piacerebbe insomma portarlo in giro almeno per l'Italia per far ascoltare il più possibile in festival in jazz festival in dei club qualsiasi posto insomma diciamo mi accolga questa è l'idea iniziale collaborazioni sono sempre molto aperto e attratto insomma sono sempre delle sfide che ci arricchiscono quindi assolutamente sì c'è qualche artista poi mi senti dimenticato che ti ha fatto crescere artisticamente o comunque ti ha dato quella che ti ha fatto anche migliorare nel nel tempo migliorare credo che quasi tutte le esperienze che ho fatto mi hanno sempre arricchito di qualcosa poi ovviamente ognuna in un punto di vista magari diverso all'altro sicuramente un musicista che mi ha dato tantissimo che ci tengo sempre a ringraziare è Paolo Di Sabatino che è un pianista terramano straordinario un'eccellenza italiana nel jazz e non solo nel jazz anche ha fatto tantissimi lavori anche nel pop diversi Sanremo e Paolo è stato in realtà un mio insegnante in conservatorio all'Aquila che oltre ad essere stato il mio insegnante mi ha dato diverse opportunità mi ha portato a suonare con lui a Mosca per un concerto e mi è stato lui ad introdurmi con Fabio Concato perché è un merito suo e grazie a lui che ho intrapreso dei concerti con con Fabio Concato difatti suonavo con Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trion insomma era quello il progetto e quindi Paolo che è un pianista straordinario un grandissimo compositore è un grande docente del Conservatorio dell'Aquila lui è una persona che mi ha dato veramente tanto prima come insegnante e poi come collaboratore da questo punto di vista io vorrei ritornare un pochino storicamente indietro parlando del fatto che tu ti dico due eventi che sono comunque televisivi Sanremo e amici qual è le cose come cosa ti ha lasciato dietro che cosa ti sei portato dietro che ti ha migliorato comunque qualcosa che ti porti dietro e soprattutto ti porti dentro di tutto questo mondo allora sicuramente Sanremo ci ha portato la tournée mondiale quindi ci ha portato la cosa più pazzesca che io abbia mai fatto nella mia vita quindi da quel punto di vista devo tutto Sanremo perché grazie a quella manifestazione che siamo riusciti a fare con la tournée quindi sicuramente importantissimo Amici è stata una scuola televisiva pazzesca che ci ha permesso di farci conoscere di far conoscere la nostra musica con la rua in tutta Italia in qualsiasi punto dell'Italia e ci ha permesso poi di realizzare uno dei nostri sogni che era quello di suonare in giro la nostra musica ci ha fatto fare diverse tournée tanti concerti tantissimi concerti quindi sono state due esperienze straordinarie appunto perché ci hanno permesso di realizzare il nostro sogno perché credo di parlare a nome di quasi tutti i musicisti il sogno di quasi tutti i musicisti è quello di suonare e di portare in giro la propria musica quindi quando uno riesce a realizzare quello diciamo che è riuscito a portare a casa quello la cosa a cui ambiva di più qualche tuo collega musicista anche di grandi live diceva quando qui salgo sul palco in realtà sono un'altra persona perché mi emozio cioè comunque tu rimani fermo oppure comunque sei un tarantolato come tanti altri personaggi ci sono tanti che sul palco sono basso ma si muovono di qua di là di suonicio Saturnino si muoveva inizialmente adesso si muove meno però oppure sai comunque vada ben statico lì fermo guarda dipende un po' dal concerto dalla situazione da tante cose è chiaro che sul palco rimanere impassibile è impossibile perché le emozioni comunque vuoi non vuoi ti travolgono perché sta succedendo qualcosa ci sono le persone c'è un palco ci sono le luci c'è una zigrea proprio una magia quindi poi dipende cioè spesso la concentrazione soprattutto se suoni cose un po' più difficili ti costringe magari a stare un po' più sulle tue piuttosto che però ecco come ti dicevo dipende dipende dalla situazione sicuramente con la rua è stata una situazione in cui ci siamo tutti scatenati il più possibile era molto importante fare un certo tipo di show quindi con anche proprio un coinvolgimento fisico quando invece ho suonato ad esempio con Paolo con Fabio robe un po' sonorità più jazz chiaramente subentrava più un discorso proprio di conoscenza armonica tecnica dello strumento che ti vincolava un po' rimanere più fermo e concentrato sulla musica da suonare però diciamo dipende dalla situazione allora ricordando facendoti vedere la copertina del disco eccola qua allora ci mancano soltanto una cosa fondamentale i saluti e tutti gli indirizzi che ti possono permettere di raggiungere e poter prendere e ordinare il disco sì allora il disco è disponibile appunto su tutte le piattaforme online quindi sulle principali per citarne qualcuna Spotify YouTube Amazon Music Apple Music iTunes lo potete trovare ovunque scrivendo semplicemente il titolo Labirinto Matteo Grandoni se qualcuno fosse interessato alla copia fisica basta che mi contatta può contattarmi sui miei canali social quindi sono su Instagram Facebook YouTube quindi va bene qualsiasi di questi canali e niente credo di avervi detto tutto quindi questi sono i miei canali e quindi passiamo saluti ti ringrazio grazie grazie Pietro per questo per questo spazio per questa opportunità e spero di vederci presto su qualche su qualche palco e sotto a qualche palco perché no mi farebbe grande piacere Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro Grazie Grazie